Personaggi, svelamenti, corpi, ossessioni. Al PAN fino al 9 settembre è allestita una straordinaria mostra dei lavori fotografici di Stanley Kubrick, geniale autore di Shining, Arancia Meccanica, 2001 Odissea nello Spazio. A 17 anni Kubrick fotografò in strada un vecchio edicolante sconvolto per la morte del presidente americano Roosevelt. La prestigiosa rivista Look comprò quella foto per 25 dollari. Cominciò così la carriera di uno dei più visionari registi del Novecento. 168 scatti originali, alcuni dei quali inediti, raccontano l'America del primo dopoguerra, dalla mondanità dei salotti new yorkesi alla miseria dei piccoli lustra scarpe e poi gli intensi ritratti di Montgomery Clift e di Betsy von Furstenberg, il pugile Rocky Graziano in allenamento, i malviventi di periferia e gli artisti del circo. Un magnifico itinerario tra le fotografie che rivela un immaginario potente, capace di intendere con precisione assoluta lo spazio del mondo. E si avverte già lo sguardo inventivo del regista, come nel ritratto dello scienziato che maneggia la luce, premonizione del dottor Stranamore, o nella prospettiva abbagliante di un ritratto della Furstenberg che fa presagire certe inquadrature di Shining. Kubrick anche nella sua attività di fotografo è un narratore, è un narratore di storie ma con uno stile e con un approccio all'immagine che gli rimarrà in tutto il suo cinema. Kubrick non sarebbe mai diventato il regista straordinario che è stato se non fosse stato anche fotografo e che rimane poi fotografo in realtà pur non facendo più le fotografie, ma facendo il cinema, l'occhio resta l'occhio del fotografo. La mostra Stanley Kubrick fotografo, realizzata in collaborazione col Museum of the City di New York e col Musee Royaux des Beaux-Arts de Belgique, ha cominciato il suo percorso mondiale a Bruxelles e dopo un tour in Sud America e in Estremo Oriente e farà ritorno a New York.